Vigili del Fuoco in piazza per la stabilità del governo e contro i tagli lineari che hanno colpito la loro importantissima attività. Lo sciopero nazionale proclamato dal sindacato autonomo Conapo ha visto appescare un sit-in di protesta sotto il palazzo della prefettura. I Vigili del Fuoco chiedono alle istituzioni una maggiore attenzione per la loro attività, che si concretizzi non solo a parole e medaglie, ma con fatti concreti. Noi siamo stufi del pressappochismo di questo governo. Noi abbiamo bisogno di un governo che governi, non che si facciano teatrini e non si prendano decisioni per portare avanti un discorso per il soccorso al cittadino. Noi abbiamo avuto sentore che entro il 15 ottobre dovrà essere controfirmata il patto di stabilità per il 2014, dove ci sono dei fondi per la prosecuzione del servizio, dove noi a tutt'oggi non siamo inseriti. La provincia di Pescara è anche regionale, c'è una rivisitazione del dispositivo di soccorso che ci porta a pensare e si potrà avere la chiusura notturna di alcuni distaccamenti. Quello di Alanno interessato, che copre tutta l'area montana, speriamo a Caramanico, Santa Eufemia, con tutti i comuni di Alanno, Cugnoli, Tocco da Casauria, che potrebbe essere chiuso la notte, quindi non avremo più la presenza dei Vigili del Fuoco H24, ma di notte dovremmo intervenire da Pescara.